Quinta vittoria consecutiva ma anche prima sofferenza effettiva del campionato dopo un illusorio avvio nel quale Tardelli aveva sfiorato il gol rompi ghiaccio. Nella ripresa la Juventus incentivava il ritmo delle sue azioni denunciando tuttavia gli stessi limiti di inventiva e continuità del primo tempo. Infine al 41esimo la rete di Bettega, spettacolare e rocambolesca al tempo stesso. Corti si tuffava sulla traiettoria della sfera ma non riusciva a neutralizzarla. Corti si tuffava la rete di Bettega.